Una bella giornata di sole, un bel momento di socialità dove la gente si può ritrovare a Ponte per la Fiera di San Luca, un evento che sta anche richiamando molte persone, con Massimo Motto vice sindaco di Ponte, tracciamo un primo bilancio di questa giornata. Grazie, grazie innanzitutto ad Obiettivo News per l'attenzione che ci sta prestando, avete confermato quello che avrei già detto io, una bellissima giornata di sole nel quale il tempo ci sta aiutando per rinnovare questa tradizione della Fiera di San Luca, diciamo buona, discreta, riuscita, cerco di essere modesto una tradizione che si rinnova dopo due anni, 2020-2021 di stop, una tradizione che è stata portata avanti grazie soprattutto alle persone che ho intorno a me, grazie a tutte le associazioni, voglio partire dalla parte finale grazie a tutte le associazioni che ci hanno dato una mano e stanno costruendo e hanno costruito questa bella fiera. Quello che devo dire è che anche quest'anno purtroppo risentiamo del problema legato ai mercatali un problema che purtroppo conosciamo, comunque una fiera che è bella piena, bella piena, bella piena di gente vedo volti allegri e questo per noi è la cosa più bella. Ciò non sarebbe mai potuto avvenire se non avessimo avuto né la collaborazione di queste associazioni né soprattutto l'organizzazione di chi non vedete che sta dietro alle quinte e che organizza questa macchina. Grazie veramente a tutti, partendo dai partecipanti partendo dai mercatali e a tutte le associazioni. Grazie, grazie, grazie ancora a voi. Al mio fianco, non vi voglio suggerire, però al mio fianco l'assessore Barinotto, Madame Arua che è un personaggio storico del paese impersonato da Luciana Vallero, la presidente dei Cantair Marina Balagna, Marco Guido Roberto, sono due fratelli di cui mi confondo sempre il nome, Guido Roberto, presidente del gruppo Alpini, che rappresentano associazioni che sempre, in ogni occasione, ci danno una mano affinché PONT possa essere, io ho questo termine, Caput Mundi. Comunque San Luca, associazione, PONT, tanta gente, Caput Mundi. Viva PONT e viva la fiera di San Luca. Mi permetto di aggiungere che queste manifestazioni possono avvenire al di là di chi c'è dietro le quinte e che lo organizza grazie alla consulta, grazie a queste associazioni. E proprio così come ha detto Madame Arua, una delle attrazioni, diciamo, degli obiettivi di PONT è il turismo, l'aggregazione, far venire gente a PONT, tale per cui proprio oggi abbiamo entrambi le nostre parchi delle torri aperte, sia la Torre Tellaria, per chi vuole farne visita, essendo soltanto le 15.30, la Torre Tellaria e il parco della Torre Ferranda. Soprattutto intendo ringraziare chi dietro le quinte sta cercando di guidare la viabilità in questo momento. Io parlo degli AIB, parlo dell'Associazione Nazionale dei Fanti, di PONT Canavese, e senza di loro non sarebbe nulla. Questo che c'è oggi, questo successo, mi permetto di dire, di oggi, è anche e soprattutto tanto, tanto, grazie a loro, oltre alle persone intervenute. E grazie a voi che ci avete dato questo risalto. Grazie. PONT Canavese Con Manina Balagna, Presidente dell'Associazione Canterre di PONT, due parole anche con lei, un bel momento di festa, un bel momento per stare assieme, un bel momento per confermare che PONT è un paese e una realtà viva. Sì, hai detto bene, è una realtà viva e speriamo di continuare in questa grande realtà, perché PONT non deve fermarsi, ma deve andare avanti, soprattutto sul turismo, soprattutto su tutto l'ambiente che ci circonda, diciamo che ci circonda un po'. Noi cerchiamo in tutti i modi di favorire le feste, le tradizioni, soprattutto quelle di non lasciarle morire. Con l'aiuto degli alpini, che siamo sempre in collaborazione molto, con l'aiuto della Giunta, del Sindaco e viceversa, speriamo di continuare di portare avanti queste tradizioni. Luciano Vallero rappresenta, veste i panni di Madame Aroua, una delle maschere tradizionali del territorio, uno dei simboli tradizionali di PONT, presente oggi, ma non solo, a tutte le varie manifestazioni, perché è importante essere a questi eventi, perché significa che PONT è viva ed è presente. Dobbiamo continuare a essere viva. Sono vent'anni che lo facciamo, grazie a tutti. PONT è una giornata come questa, non potevano mancare gli alpini, siamo con il capogruppo Guido Roberto, anche con te due parole per questo momento che sta richiamando a tanta gente, è importante dopo soprattutto quei due anni maledetti che abbiamo vissuto ultimamente. Sì, ma noi ci siamo, quando ci chiamano, noi a queste feste, poi specialmente dove c'è tradizione, dove c'è socialità e tutto, noi cerchiamo di non mancare, di dare il nostro supporto. Poi per noi oggi, vabbè, ieri era una data importantissima, che erano 150 anni dalla Costituzione del Corpo degli Alpini, quindi per noi è festa doppia, ma comunque fare festa a PONT, e che che se ne dica è sempre una cosa bella, e siamo, noi pontesi siamo capaci a far festa e a permettere anche agli altri che vengono da fuori, come diceva giustamente il Vice Sindaco, quando vengono a PONT si trovano sempre bene perché sappiamo far festa, sappiamo esserci. Grazie. Grazie. Grazie.